Io mi diverto, lo faccio soprattutto per me perché banalmente la musica e il suono riesce a trasportarmi e a farmi staccare da tutto e questa è una qualità che ha la musica e ha il suono. L'aspetto per me ferma un po' che attraverso le registrazioni non arriva il suono che sento a casa e l'obiettivo è quello di migliorare nelle registrazioni però si tratta di capire anche cosa si ha a disposizione per registrare, però un po' alla volta insomma miglioreremo. Una volta magari avremo l'opportunità di sentirti qui ad XYZ. Si può fare molto volentieri.